ciao ragazzi oggi ci troviamo al passo Stauranza e andiamo a fare il giro del pelmo prendiamo il sentiero 480 verso forcella d'arcia è un bel giretto questo da 7-8 ore sei contento Luca? contentissimo io sì non sono 7-8 forse forse ce la facciamo anche questa volta non sono 7 ore ma ci proviamo dai ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti amici del canale guardate che spettacolo a mezz'ora della partenza guardate dove siamo meraviglioso grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A meno di tre ore siamo arrivati a Forcella d'Arcia. Diciamo che non siamo passati per il rifugio Città di Fiume. Abbiamo fatto il centriero Fleibani 480 che sale senza mollare mai fino alla forcella. Ed eccoci qua, c'è la nebbia. Comunque tutto sommato non fa neanche freddo. L'home sta facendo volare il drone. I ragazzi stanno fumando. Pausa e poi si prosegue verso il rifugio Venezia. Mi sa che ci metteremo più tempo a scendere perché io in discesa non sono forte. Alla prossima. Pinch me if I'm dreaming Can we get away together Let's run to the hills Where fields are green Let's follow the path Of sweetness and ease If just for a moment We can breathe in the roses Let's run to the hills Just you and me Rainy clouds replace blue skies Our feet get dirty This is part of our lives Let's get back to the basics Can we get away together Let's run to the hills Where fields are green Let's follow the path Of sweetness and ease If just for a moment We can breathe in the roses Let's run to the hills Let's run to the hills Just you and me Stay here for another moment Heartache can find us now This sweet aroma That lifts us off the ground Can we get away together Let's run to the hills Amici del canale Eccoci al Refugio Venezia 4 ore e 10 Amici e adesso qui Solito Birrona Si mangia E poi torniamo alla base Amici del canale Da Refugio Venezia Adesso Ritorniamo E passo in Stauranza Circa 2 ore 2 ore e mezza E poi torniamo alla macchina Ci vediamo giù Ciao 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 Bene anche per oggi Il nostro trekking è finito Ci abbiamo messo 6 ore e 15 A fare l'anello del pelmo E' stato un bel giro Pensavo più difficile Però c'è da dire una cosa Io consiglierei Se lo fate Portatemi un caschetto Per i pezzi che ci sono Perché possono cadere dei sassi E anche un cordino Ci sono i pezzettini attrezzati Per chi magari ha paura Ecco Abbiamo fatto 900 metri di livello Più o meno 13 chilometri e mezzo Panorama spettacolare Dai Spero comunque che il video Vi sia piaciuto E se vi è piaciuto Come sempre Vi chiedo di mettere un bel like Un pollicione in su E se volete vedere altri video Come questi Registratevi al canale E attivate la campanella In modo tale Da rimanere aggiornati Sui nostri prossimi video Ciao a tutti Da Luciana Ciao Domenico Manu Ciao E Luca Ciao ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.